Gulliro Gulliro che è l'unico che in questo momento potrebbe fare la differenza Gulliro, palla in mezzo, c'è il competenze Gulliro e il gol! Pareggio di... 10-2 Pareggio di 10-2 al novantesimo Adesso Gianluca, Gianluca un finale rocambolesco e adesso altri 30 minuti di sofferenza per lo Shaka che in 10 dovrà difendere questo 2-2 Sì, sono 30 minuti di sofferenza non solo per i giocatori ma anche per i tifosi è stata veramente un'ottima azione di gioco, un gol bellissimo, bellissimo e speriamo insomma che adesso i ragazzi possano essere molto attenti perché di qui a breve fischierà il tre vizio finale l'arbitro guida di Salerno Che carattere, che carattere questo Shaka in 10 uomini al novantesimo è riuscito ad agguantare il pareggio Grazie!